Ciao famiglie! Oggi parleremo di benessere e di cura estetica. Dopo sei settimane di lockdown, i cittadini attendono con impazienza la riapertura di parrucchieri e centri estetici. Confartigianato ha proposto al governo un protocollo di sicurezza pensato per la riapertura del settore beauty. Ma vediamolo nel dettaglio. Ogni struttura dovrà ricevere i clienti esclusivamente su appuntamento. Rispettare la distanza di un metro tra i clienti presenti nella stessa area, limitando la loro permanenza nel locale e optando per orari di apertura flessibili per agevolare la turnazione dei dipendenti. Ma come cambierà il nostro salone di fiducia? 1. Gli spazi del locale saranno delimitati applicando sul pavimento strisce di scotch di colore ben visibile. 2. Le postazioni occupate saranno alternate sia nella zona del lavaggio che nelle zone trattamenti. 3. Ciascun dipendente potrà avere in carico un massimo di due clienti. Ma attenzione! Uno deve essere in fase di attesa tecnica e a distanza di sicurezza. Ricordate che la sicurezza igienico-sanitaria sarà sempre garantita sia per il cliente che per l'operatore. Ma ora alcune domande frequenti. Devo utilizzare la mascherina e i guanti monouso? Sì, è necessario. Come posso avviare alla distanza di un metro per i trattamenti per i quali non può essere garantita, quali il taglio e la cura della barba, con l'utilizzo di occhiali protettivi o visiera in plexiglass? Con quale frequenza avviene l'igienizzazione? Al termine di ogni trattamento e all'ingresso di ogni cliente. Buon benessere a tutti in sicurezza.